Buona Pasqua, cosa serviamo qua? Buona Pasqua a tutti, sono venute 350 persone, ne stanno arrivando altre che si aggiungono a questo pranzo dell'amicizia che è un pranzo pensato per rendere questa giornata di festa con meno solitudine. È una povertà trasversale che colpisce tanti, penso soprattutto agli anziani che vogliono vivere un giorno in famiglia. Come da tradizione c'è una colazione pasquale con una torta al formaggio, uova sode, salame, corallina, poi ci sono le lasagne, il pollo con patate e carciofi in insalata e dolci pasquali come uovo di Pasqua e colomba. Un'immagine della risurrezione con la scritta in Ucraino è Christos Voskres, che significa Cristo risorto, alla quale si risponde in Ucraino Vostimni Voskres, cioè veramente risorto. è un paio che era passato, è un mio paio che non è sicuro. Grazie a tutti.